Diamo il benvenuto e il ben trovato a Michelangelo Massara, Private Wealth Advisory. Ciao Michelangelo, grazie per essere qui con noi. Ciao Giacomo, buongiorno a tutti. Allora, il dato più importante di oggi è quello che riguarda la Germania. Non tanto il PIL, o meglio, certo, anche il PIL su base trimestrale e su base annuale, al di sotto delle attese è ancora in contrazione, ma abbiamo anche l'IFO e quindi il clima imprenditoriale, diciamo così, la fiducia delle aziende in Germania. È vero che, eccolo qua, è questo, 99,2 è il valore appena pubblicato, 96,6 è il valore precedente, quindi siamo cresciuti, migliora il clima, migliora anche, diciamo, meglio delle attese, 98,2, ma siamo comunque sotto i 100, che vuol dire sostanzialmente espansione. È anche vero che comunque siamo a un valore, questo ci fa vedere il grafico di Trading Economics, che sicuramente è il più alto dell'ultimo anno, diciamo così, eh sì, dell'ultimo anno, tornando indietro a maggio 2020, e se andiamo ancora un po' più indietro, eccoci qua, vediamo che se uno spettro degli ultimi cinque anni, beh, insomma, forse è il massimo degli ultimi due, sostanzialmente, quindi sicuramente sono dati interessanti, bisogna tornare indietro a febbraio 2020, per quanto riguarda il settore dei servizi, un valore così alto. Dunque al di sopra del consensus, ma al di sotto di quota 100, che diciamo è il limite spartiacqua, perfetto. Michelangelo mi ha completato la frase, e allora lascio che prosegui, insomma, la riflessione e il ragionamento su questo dato, che sappiamo essere importante per la Germania, per l'andamento di Eurodollaro e così via. Michelangelo. Sì, abbiamo questa piccola contrapposizione fra il dato economico, quindi leggermente sotto le aspettative, rispetto a quello che sarebbe dovuto essere il movimento riguardo al PIL e riguardo all'economia, e dall'altra parte un leggero incremento rispetto alle aspettative per quanto riguarda la fiducia. sono dati che ovviamente bisogna prendere in considerazione, ma il dato che diventa fondamentale e che poi va a giustificare il movimento della borsa e quindi degli indici, in questo momento non è tanto il dato riferito al PIL o alla fiducia dei consumatori, ma è uno solamente che riguarda sia a livello globale, parte dall'America e poi va naturalmente all'Europa. il discorso del tasso di interesse. Cioè, in funzione, noi sicuramente osservando i mercati in questi ultimi giorni, in queste settimane, ma anche l'esatta inversione che ha fatto l'indice tedesco, andando a rimarcare nuovi massimi assoluti, è quello che potenzialmente potrebbe fare il Nasdaq, se dovesse chiudere naturalmente la settimana nella maniera in cui ha dato l'impostazione in questo primo giorno, diciamo, ieri, e come potrebbe realizzarsi naturalmente la situazione di oggi in funzione del dato del future. Ecco, questo è molto importante. La cosa più importante è il tasso di interesse, l'aspettativa del tasso di interesse. Diventa fondamentale perché ogni volta che viene rimarcato che i tassi di interesse attuali potranno rimanere ancora bassi, i riacquisti dei titoli di Stato potranno continuare e l'inflazione, diciamo, si potrebbe muovere solo come incrementi momentanei, il mercato reagisce in maniera positiva. Nel momento in cui c'è un dato macroeconomico o una dichiarazione che può far pensare o portare a un ulteriore incremento dei tassi, barra una diminuzione del riacquisto dei titoli di Stato, dei singoli stati che in realtà sono anche corporate, ecco che questo genera un'inversione sugli indici. Quindi questo è sicuramente il live motive da prendere in considerazione. E dato che mi parli di tassi di interesse, io non posso non, diciamo, stimolare la conversazione su quanto riportato proprio questa notte da alcuni membri della Fed, Brainard, Bullard, come lo volete pronunciare, e Bostic, i quali hanno detto i rincari dei prezzi perché abbiamo visto come l'inflazione sia cresciuto oltre le attese anche se era atteso, c'è anche questo, spesso ci imbattiamo in questi giochi di parola, che però, insomma, spiegati in un certo modo hanno anche senso, saranno rilevanti ma solo per qualche mese, non dureranno a lungo. Ecco perché viene considerata una, diciamo, dichiarazione dovish, peraltro parleranno anche Evans e Barkin nel corso del primo pomeriggio, e poi anche largo alla BCE, perché insomma, per par condicio, se parlo alla Fed, anche i membri della BCE vogliono dire la loro, e quindi Villarroa de Galo e Philippe Lane, mister euro-dollaro. In tutto queste dichiarazioni e quelle dichiarazioni che arriveranno, io però ricordo ancora che la Fed, nei verbali, ha scritto che effettivamente dovrà iniziare, potrebbe iniziare a pensare al tapering a partire da giugno, e poi non c'è mica solo la Fed e non c'è mica solo la BCE, sicuramente hanno una rinnovanza maggiore, ma non è che tutti gli altri spariscono e tutti gli altri si stanno muovendo in una certa direzione. Michelangelo? Sì, noi abbiamo una situazione dove per esempio Canada, Australia, Nuova Zelanda hanno già ipotizzato una diminuzione del riacquisto dei titoli di Stato e quindi stanno mettendo le basi per una possibile risalita dei tassi di interesse, magari non necessariamente nell'immediato, ma nel prossimo futuro. Dall'altra parte abbiamo un'America che ogni volta che ci sono queste tipologie di riunioni, di appuntamenti, cerca di smorzare i toni, di interpretare questo incremento del prezzo delle materie prime, incremento dell'inflazione solo come un movimento momentaneo, se questo realmente sarà, allora probabilmente i mercati continueranno a scommettere in una determinata direzione. Ma se i dati che dovessero arrivare nei prossimi mesi, nei prossimi trimestri, dovessero andare invece contro questa visione, e sappiamo che comunque ci sono alcuni esponenti che già portano avanti questa tipologia di discorso, ecco che a un certo punto la Fed si potrebbe ritrovare nella situazione di dover ammettere potenzialmente che questo incremento dell'inflazione in realtà non è un incremento momentaneo, ma un incremento potenzialmente duraturo, o dove l'incremento potrebbe essere anche superiore rispetto a quelle che sono le loro previsioni. Ecco, se si dovesse realizzare una situazione di questo genere, allora probabilmente i mercati potrebbero reagire anche in maniera scomposta. Io la interpreto un po' così la Fed, non so se la regia riesce a mostrare il meme che ho inquadrato e che abbiamo fatto vedere durante l'ultima puntata di Memeconomics, un po' di suspense perché vedo che non la vediamo ancora, un altro po' di suspense perché vedo che ancora non la vediamo. Regia, ce l'abbiamo? Il meme che sto mostrando nello schermo. Ok, ok, ecco, adesso arriva. Boom, è sparito tutto nello schermo, quindi non so se lo state vedendo. Si, si vede già come si vede. Ok, no, perché noi risolviamo una cosa e poi si genera subito un altro problema. In questo caso non ho il ritorno dell'immagine dello schermo davanti a me. Bene, si vede la Fed dopo i verbali in cui ammette un possibile tè per inestate, ma oramai per me la trittata è fatta, nel senso che il tronco non basta a nascondere i nostri amici della Fed. Ovviamente scherzo, ovviamente un modo anche un po' per alleggerire qualche volta argomenti spesso complessi e che magari noi, mi ci metto io in primis, magari ne parliamo dando per scontato determinate dinamiche. Però, tornando a noi, Michelangelo, Fed, banche centrali e quindi grande liquidità, e quindi abbondante liquidità. I mercati continuano a mostrare una tendenza e qui andiamole anche a vedere in linea di massima positiva, soprattutto nei mercati rialzisti. DAX oggi ha segnato un nuovo massimo, come dicevo, e anche il MIB si sta scontrando di nuovo contro i 25.000. Non avviene mai una reazione, diciamo, vigorosa, insomma, un movimento deciso al rialzo, né per il DAX né per il Futsimib. Poi in America sappiamo che le cose a volte vanno in maniera diversa. Vedi il Nasdaq, che comunque si è dato un po' una calmata nel lungo periodo, complice, insomma, il cambio di, diciamo, inquilino della casa bianca. Detto questo, e qui ovviamente se vuoi mettici pure una tua riflessione, abbiamo avuto un momento di, diciamo, ripresa, o meglio, abbiamo recuperato un po' le energie, per quanto riguarda appunto le borse, e adesso sembra che stiano puntando nuovamente verso l'alto. Michelangelo. Beh, effettivamente quello che è successo sui mercati, io a questo punto, per vedere esattamente quello che è successo, partirei, come al solito, dallo spread BTP, visto che prima parlavamo di tassi, quindi andiamo a vedere immediatamente quello che è successo sullo spread BTP, e vediamo esattamente poi quello che è successo sui mercati azionari. Quindi, andando a vedere direttamente la situazione dello spread BTP Bund, la chiusura di ieri, 115, arrivavamo da un 121, quindi ecco confermato quella leggera diminuzione dello spread che, guarda caso, va a coincidere con un movimento anche per qua. Ecco, questo è il movimento naturalmente a livello mensile, quindi il forte rialzo da zona 100 a zona 126-127 della scorsa settimana e quindi vediamo questo leggero ritracciamento, che è anche in funzione appunto dell'interpretazione del movimento di mercato sui tassi di interesse attuale. Quindi, in funzione di quello che dicevamo prima, poi ci potremmo aspettare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane un ulteriore movimento nella direzione che andrà a ripercorrere quelle che saranno le decisioni o le sensazioni che il mercato avrà sui movimenti dei tassi. Questo si è riverberato sul discorso e viene direttamente influenzato sul discorso del BTP a 10 anni, lo avevamo lasciato a 1,114, lo ritroviamo a 1,019. Ecco, anche qui a livello mensile guardiamo la risalita, partiva addirittura da 1,54-0,60, è arrivato fino a 1,15-1,18 nel giro di un mese e vediamo adesso questo ritracciamento. Vedremo se questo ritracciamento potrà continuare e sarebbe ottimo naturalmente per l'economia italiana o se in realtà la tensione rimarrà alta, la tensione e l'attenzione sui titoli di Stato. Ecco, quello che poi naturalmente l'altro lato della medaglia, l'altra faccia della medaglia in funzione di quello di cui stavamo parlando prima, dei tassi che quindi ha influito positivamente sui mercati, lo ha dato qua il grafico a livello mensile. Iniziamo dallo Standard & Poor's, l'abbiamo lasciato settimana scorsa che stava rompendo comunque il suo trend line rialzista, aveva raggiunto dei valori molto particolari, guardate semplicemente la candela mensile, quindi siamo già in chiusura a mese, cosa è riuscito a ritracciare solo nell'arco di una settimana. Bene, lo possiamo vedere meglio su questo grafico settimanale, quindi la settimana scorsa noi c'era stata la rottura durante la settimana del 4123, molto importante, l'ipotetica falsa rottura, perché questo è quello che è andato a rappresentare graficamente della sua media mobile e guardate il fortissimo ritracciamento avuto. Ecco, se dovesse continuare nei prossimi giorni, sicuramente potrebbe portare una chiusura settimanale, quindi mensile, con un totale ritracciamento di tutta la perdita che potenzialmente avrebbe potuto creare questa settimana. Ma anche qui dipenderà molto dai dati e dalle informazioni che verranno rilasciate nei prossimi giorni. Il Nasdaq ha recuperato, ma ha recuperato di meno, naturalmente, rispetto al movimento dello Standard & Poor's. Lo avevamo visto settimana scorsa, avevamo detto che sarebbe arrivato in area 12.840, così effettivamente ha fatto, lo vediamo ancora meglio qua sul settimanale, quindi la settimana scorsa, che è arrivato in area 12.840, l'eventuale rottura confermata avrebbe poi potuto generare un'ulteriore flessione, naturalmente, dell'indice, ma, come diciamo sempre, secondo la nostra analisi macrociclica, noi andiamo a guardare sempre e comunque la chiusura della candela a livello settimanale. Ed effettivamente, guardate il fortissimo ritracciamento che poi ha avuto rispetto, naturalmente, alla sua ampiezza totale. In questo momento, il Nasdaq, a livello settimanale, sta tornando, naturalmente, nella parte alta, e quindi vedremo come sarà in grado, naturalmente, di interpretare il suo ulteriore movimento. Germania, Germania che aveva seguito questo ritracciamento, ma che ha recuperato totalmente, sia a livello mensile, sia a livello settimanale, il suo movimento, questa è la chiusura di ieri, ma sappiamo che stamattina ha già rotto i suoi massimi di riferimento, e quindi è andato ben oltre i suoi massimi relativi e i suoi massimi assoluti. L'Italia, l'Italia che è sempre lì, nell'area 25.000, 24.800, 24.900, deve riuscire a trovare la forza per romperlo in maniera definitiva, per poter andare a 25.500 prima e 26.603 successivamente. L'eventuale rottura, poi confermata, con chiusura di questi valori, potrebbe poi spingere, se l'America e l'Europa continuano naturalmente il loro rialzo, fino in area 28.000-29.000. Non penso che, diciamo, nella prospettiva del prossimo mese, l'indice, al netto di eventuali informazioni importantissime, molto positive, a livello economico, questo valore, non penso che potrebbe, che si potrà naturalmente superare. Però, questo lo vedremo giorno per giorno e settimana in settimana. Eccolo qui, a livello settimanale, e ci troviamo naturalmente a prendere in considerazione, a questo punto parlavamo in materie prime, Brent. Brent che si sta riportando nella parte superiore della sua resistenza di 71 dollari. In questo caso, l'eventuale rottura confermata, ma anche qui aspettiamo la rottura confermata di chiusura, settimanale, e poi il dato mensile, l'eventuale rottura del 71 potrebbe portare naturalmente il valore in area 81 prima, ovviamente con vari step intermedi, ma se dobbiamo guardare dei valori di riferimento, possiamo vedere 81,80 prima, e poi verso l'area 87. Naturalmente, questo rialzo potrebbe comportare un ulteriore incremento dell'inflazione, che quindi potrebbe generare un ulteriore movimento invece sul mercato azionario esattamente opposto se l'interpretazione del mercato è che questo ulteriore incremento della materia prima nella fattispecie del Brent possa influenzare negativamente, cioè in maniera troppo eccessiva e troppo duratura, il rialzo dei prezzi, che già oggi vediamo che è molto elevato, molto legato alla speculazione, ma sicuramente è un fattore che in questo momento bisogna assolutamente prendere in considerazione. oro che è nella parte superiore ha rotto con forza per il momento, quindi se dovesse conformare il 1850, se questo dovesse essere confermato, il prossimo valore è il 1913. La rottura definitiva dell'area 1850 confermata con un certo tipo di candela oltretutto porterebbe alla rottura grafica di quel canale di ritracciamento che è esattamente questo che vediamo qua, che si è andato a concretizzare nelle scorse settimane. Ecco, l'eventuale rottura potrebbe sì portare al primo valore di 1913 e poi, perché no, a step successivi l'obiettivo sarebbe il 2074. Eccolo qua, che lo possiamo vedere naturalmente sulla parte mensile, quindi quel ritracciamento come effettivamente l'eventuale ulteriore forza, l'eventuale rottura potrebbe portare a un'interpretazione di questo movimento degli ultimi 5-6 mesi, 7, 2, 4, 6, sì, 8-10 candele, quindi circa negli ultimi 10 mesi, come solo un movimento di ritracciamento rispetto al movimento principale di lungo periodo. Chiudiamo con il bitcoin. Bitcoin, che però, perdonami, me lo puoi dare tu, questo qui, perché questa slide qui non è aggiornata. Non lo so, ci devo pensare su. guarda, ci devo pensare, perché non so se... No, scherzo ovviamente, va bene, vado di bitcoin, dimmi tu se mensile, settimanale... E andiamo su settimanale. Sì, volentieri. Eccoci qua, adesso lo miglioro. Eccoci qua, io poi segno anche i momenti in cui mostra resistenze o supporti, ma eccolo qua. Benissimo, siamo arrivati, ha raggiunto un minimo di... Minimo per quanto riguarda questa settimana? Sì, arrivato la chiusura settimana scorsa. Settimana scorsa siamo a 29.563. 29.000, benissimo. Quindi la rottura del 42 che avevamo visto insieme la scorsa settimana ha portato anche alla rottura del 33.000 e l'ha portato in area 27.000. Ricordiamoci che non più di 6-7 settimane fa aveva raggiunto un massimo di 64.792. Ecco, si è andato a realizzare questo ritracciamento che diventa qualcosina di più e è diventato qualcosina di più di un solo ritracciamento ma anche una possibile inversione ma sarà importante vedere la chiusura di questa settimana e poi il prossimo movimento mensile perché questo movimento è stato influenzato fortemente dalle informazioni che sono giunte da una parte delle dichiarazioni naturalmente di Musk dall'altra parte delle informazioni che arrivavano dalla Cina e dall'America ecco a livello diciamo macroeconomico come criptovaluta ci sono arrivate delle informazioni sicuramente non positive in queste settimane che hanno generato il crollo questo è quello di cui parlavamo negli ultimi mesi dicendo attenzione perché sicuramente ha fatto un bellissimo movimento sicuramente potrà rappresentare eventualmente domani una formula di investimento importante e alternativo rispetto ad altre tipologie di investimento ma ricordatevi che comunque la storicità è veramente poca e dall'altra parte viene influenzato in maniera molto ma molto elevato forse eccessiva in questo momento da quelle che sono poi le dichiarazioni dei singoli stati o le dichiarazioni di personaggi come Musk che hanno aperto posizioni molto molto importanti che poi potrebbero fare speculazione ed effettivamente è quello che è successo in queste settimane e allora grazie a Michelangelo Massara Private Wealth Advisory per le tue analisi e i tuoi approfondimenti ci sentiamo presto buon lavoro grazie a te e arrivederci a tutti grazie a tutti